La Champions League fa la sua prima vittima. Il Chelsea ha deciso di esonerare il tecnico Thomas Tuchel dopo la sconfitta della squadra londinese contro la Dinamo Zagabria. La battuta d'arresto in Croazia, l'esordio in Champions League, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Chelsea balbetta anche in Premier League, dopo sei gare e solo sesta in classifica. La società inglese ha così deciso che poteva bastare e ha dato il ben servito a Tuchel, sorprendendo tecnico squadre e tifosi, in attesa di designare il successore il gruppo affidato allo staff.